ciao a tutti bentornati ho rimediato un po di gratte e vinci e adesso penso di grattarli insieme a voi vediamo le ultime cose che possono uscire ne ho 8 per gli arredi e 3 per la criminalità prima facciamo questi e per ultimi ci teniamo quelli più succosi iniziamo subito primo gv ready vincente cosa succederà un bel biscottino panni zenzero secondo un pacco due pacchi tre pacchi anche questo vincente wow cosa abbiamo una sedia elfica ma carina diamo avanti terzo gv sedia di babbo natale ma questa qualcuno me l'aveva chiesta sappiate che in vendita perché già ce l'ho quindi sotto con le offerte andiamo avanti tutti vincenti speriamo che poi non sono tutti perdenti quelli crime un camino un camino che appoggiamo qui tanto è tutto temporaneo e si gratta subito tre pacchi dai vorrei essere portato pure con i prossimi casetta pan di zenzero tutti vincenti davvero la postazione del lavoro natalizia pure questa invece la doppione se qualcuno la vuole mi faccio la bella offerta pacco pacco se questi arredi vincono più spesso dei criminali vero l'altra casetta ultimo attenzione tutti vincenti tremo per il prossimo per uscivo pazzetto va bene adesso abbiamo giocato con con questi gratte vinci e adesso si passa alle cose serie forse vediamo che ci danno questi tre ok iniziamo dal primo un guanto ai 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 niente sono stato troppo fortunato prima ma anche un guantino spruzzoloso vabbè qui ognuno potrebbe essere abbastanza per rifarsi tutto facciamo supposizioni una brutta x una brutta x munizioni munizioni ce ne sarà una terza ultima chance si vediamo quanti colpi abbiamo trovato 16 16 vabbè ci sta non fanno mai schifo 16 proiettili ultima oh aia 3x è già provente male sono stato troppo fortunato con quegli arredi questi mi sono bruciati vabbè è andato meglio l'altra volta con l'8.0 penso che metto sempre qui e vi saluto non faccio i pugnetti se no distruggo la poltrona e al prossimo video ciao ciao ciao